Guarda che altro è ferito! Medico, mi hanno ferito! A sentry came to the basement near your location. Come and shoot! Ed o'errore! Che fai! We have taken objective channel. Taken a lot more. Let me get the loot. This is what I am going to say. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!